siamo qua con il bomber del 1926 nonché francesco bene capitano e presidente onorario di questo grande team che ha battuto per 3 a 2 nel finale questo enea bocchino team che è una grandissima squadra vediamo un attimo due parole a caldo al capitano cosa ne pensa come prima cosa voglio dedicare la vittoria ai nostri tifosi un ringraziamento a tutta la squadra che ha dato fino all'ultima goccia di sudore davvero una bellissima partita